Sarà questo, Castagnola, Zoiro C'è anche il pesce pappà C'è il pesce margarino Che costa? Un pesce viola Wow, è un pesce viola peccano Guarda quello che sta guardando la signora, è tutto colorato, guarda Si chiama pesce mandarino Guarda... Conservation Guarda la manchina Guarda la manchina Guarda la manchina Dogang Guarda la manchina Grazie.